L'Italia è in lutto per la repentina scomparsa di Carlotta D, e Barbara D'Urso non riesce a trattenere le lacrime. Ti diamo il benvenuto nel nostro canale, ma prima di iniziare il video, ti ricordiamo di iscriverti, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Barbara D'Urso ha ricevuto una terribile notizia, colpita da un lutto che ha scosso profondamente la sua vita, la prematura scomparsa di Carlotta D, con cui ha condiviso momenti importanti, l'ha lasciata visibilmente sconvolta. Carlotta ha lavorato al fianco di Barbara come inviata per Pomeriggio 5. La conduttrice televisiva ha voluto rendere omaggio a Carlotta sui social network con un post toccante, suscitando una valanga di commozione tra i suoi seguaci. Il dolore di Barbara D'Urso è evidente, non si aspettava una perdita così dolorosa, tutti avevano sperato in una pronta guarigione, ma la malattia ha avuto il sopravvento, portandola via troppo presto. Carlotta aveva ancora tanto da dare, sia dal punto di vista umano che professionale, e la sua assenza sarà profondamente sentita non solo da Barbara, ma da tutta la famiglia Mediaset. Le parole di Barbara D'Urso hanno toccato il cuore di molti italiani, che hanno condiviso il suo dolore. La giovane donna, ora scomparsa, aveva lasciato il segno nelle trasmissioni condotte da Barbara D'Urso e aveva contribuito al successo di diversi programmi dell'emittente televisiva. La sua prematura partenza rappresenta una perdita non solo per la famiglia della televisione, ma per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. Addio Carlotta, ci mancherai. Grazie per averci seguito, a presto con un nuovo video.